Musica Buongiorno da Alessandra Bucci e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. Un saluto anche a chi ci segue sul Radio Bari. Sulle minacce dell'altra notte al vigilante del cantiere di Torrequetta stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Bari. Tutto farebbe pensare al racket della malavita locale sulle attività economiche, ma dagli investigatori c'è il più stretto riservo sulla vicenda. La cronaca di Cristina Ferrini. Proseguono a ritmo serrato le indagini dei carabinieri del comando provinciale per risalire responsabili delle minacce dell'addetto alla sorveglianza notturna del cantiere Mare Levante di Torrequetta, dove sono in corso i lavori di bonifica dall'amianto della spiaggia sud di Bari. Nella notte tra lunedì e martedì scorsi il guardiano, almeno secondo quanto denunciato dall'uomo ai carabinieri, sarebbe stato circondato da quattro persone mascherate che armate di bastone con una tannica di benzina avrebbero detto queste testuali parole. Devi dire ai tuoi padroni che siamo venuti a trovarti e che ora ci siamo noi qui. Un avvertimento all'Associazione di Imprese Appaltatrici dei lavori che fa pensare alle mani del racket dei clan criminali sulle attività economiche, anche se le aziende impegnate nella bonifica hanno dichiarato di non aver mai ricevuto prima dell'altra notte minacce o richieste di denaro. Solo qualche mese fa di pizzo nei cantieri ne aveva parlato Giacomo Valentino, boss del clan Strisciuglio, ora collaboratore di giustizia. Anche il sindaco Michele Emiliano che nei giorni scorsi aveva lanciato un nuovo allarme criminalità nel quartiere San Paolo di Bari sulla questione di Torrequetta ha dichiarato che si potrebbe trattare di un episodio isolato. Intanto gli investigatori stanno cercando di capire le dinamiche delle minacce dell'altra notte al vigilante attraverso il racconto dettagliato della vittima, unico testimone dell'accaduto. Ancora cronaca, due furti a distanza in meno di 24 ore. A finire nel Milino dei Ladi, l'istituto scolastico Majorana di Via Rocca. I gnoti si sono introdotti di notte nella scuola forzando la porta d'emergenza e danneggiando alcuni infissi e hanno prelevato il contenuto delle gettoniere di cinque distributori automatici di bevande. Una rapina poi è stata messa a segno al supermercato Sidis di Via Cilea. In due armati di pistola e coperti da cappucci sono riusciti a rubare solo alcuni buoni pasto per qualche centinaia di euro. Su entrambi gli episodi indaga la polizia. Oltre 40 tonnellate di prodotti petroliferi sequestrati e 40 persone denunciate. Il bilancio di una maxi operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Da quanto riferito, nell'ambito di specifici controlli in materia di accise presso un'azienda operante nel settore petrolifero, i militari hanno posto i sigilli su un complesso aziendale e sequestrato numerosi barili di carburanti, tra cui 31 tonnellate di gasolio per autotrazione, 8 di gasolio agricolo, 1 di olio lubrificante e 5 impianti di erogazione. Tambiamo argomento, protestano i residenti del quartiere Libertà per il degrado che regna nei pressi dell'ex manifattura. Sentiamo. Guarda un po' i marciapiedi, ci sono delle scrementi, la gente per camminare deve fare lo slalom. Questi giorni ha piovuto e diciamo che si può dire tra parentesi che è pulito, però è uno schifo. E' uno schifo. Via Ravana, Sevilla e Nicolai, sulle due strade d'accesso al mercato dell'ex manifattura, è consigliata la Gimcana. Sono queste le istruzioni d'uso anti-incuria, un'inciviltà che abbiamo documentato con le nostre telecamere. Sono in molti a lamentare il degrado della zona, in pochi parlano, ma la situazione insostenibile ha reso necessaria la convocazione di un consiglio circoscrizionale monotematico, come ha spiegato il presidente della circoscrizione Libertà Fesca San Girolamo, Dino Tartarino. Al di là del discorso di pulizia che molto spesso subisce dei ritardi, me ne rendo conto perché ci sono operatori che sono stati assunti a quattro ore giornalieri e questo naturalmente fa sì che ci sono dei grossi problemi per quanto riguarda alcuni isolati del nostro quartiere. Le proposte formulate all'indirizzo del presidente della Mio Bari Giuseppe Savino sono chiare. Stabilire una sorta di programma per stabilire, voglio dire, un indirizzo ben preciso su quelle che sono le strade da avere una maggiore attenzione. Certo, tutte le strade hanno bisogno di una maggiore attenzione, però ci sono strade che comunque vengono sistematicamente pulite, strade che onestamente vengono un po' dimenticate. 2,8 milioni di euro per cambiare il volto del quartiere Libertà, siglata un'intesa tra il sindaco Michele Emiliano e il presidente della regione Puglia, Michi Vendola e la Ferro Trambiaria. Ce le parla Francesca Russi. 28 milioni e mezzo di euro è la cifra complessiva stanziata dalla Ferro Trambiaria in favore del comune di Bari, un finanziamento mirato a riqualificare il quartiere Libertà. Il progetto riguarda l'area vasta compresa tra Lungomare e Vittorio Veneto, via Brigata Regina, Corso Mazzini, via Napoli e via Ravanas. Questa mattina il sindaco Michele Emiliano ha siglato l'accordo di programma con il presidente della regione, Michi Vendola. Nei piani dell'amministrazione c'è l'acquisizione di una zona di 14 mila metri quadri tra Lungomare e Vittorio Veneto e via Brigata Regina da destinare ad uffici comunali ceduta dalla Ferro Trambiaria. La stessa società di trasporto pubblico ha assicurato la realizzazione di una scuola materna con annessi servizi. Tra gli interventi previsti, il completamento della viabilità di via Anita Garibaldi, la realizzazione di un parco attrezzato sull'area dell'ex gasometro dotato di attrezzature sportive, ludiche, parcheggi e servizi. In Corso Mazzini inoltre sorgerà un nuovo parcheggio multipiano. In via Napoli invece, di fronte al Palamartino, un edificio destinato a servizi per la residenza e attività commerciali. Nelle restanti aree destinate dal PRG a completamento urbano, la Ferro Trambiaria realizzerà altri appartamenti. Un'operazione fondamentale per il futuro del libertà. Detto Emiliano, saremo in grado di ricucire la zona interessata con il contesto urbano e di intervenire su aree della città ancora degradate. A Renato Guaccero, segretario generale del Consiglio regionale, dal 1 aprile 2005 al 12 giugno 2009 per i 40 anni di appassionato impegno professionale e profuso al servizio dell'istituzione. Sono le parole impresse sulla targa dedicata a Renato Guaccero, scomparso improvvisamente a giugno scorso. Il presidente del Consiglio regionale, Pietro Pepe, oggi in occasione della cerimonia di intitolazione del Salone di rappresentanza del Palazzo del Consiglio regionale, ha ricordato la figura e la grande passione di un vero e sincero amico, di un servitore della comunità pugliese e di un uomo delle istituzioni. Parole che hanno commosso i familiari di Guaccero, tra cui erano presenti la moglie Angela, il figlio Domenico e la nuora Roberta. Presente alla cerimonia anche molti dipendenti della regione Puglia, che hanno voluto testimoniare così l'affetto e il bene sincero per una persona che hanno definito davvero speciale. Si chiuderà domenica l'insegna di un modesto più 4% nelle vendite rispetto allo scorso anno e la stagione dei saldi invernali. È il già momento di bilanci per il settore del commercio, che da tempo richiede interventi di maggiore incisività. Gli operatori lamentano l'assenza di iniziative che favoriscano lo sviluppo delle vendite anche in periodi diversi dalle festività natalizie. A Natale i clienti ci sono, ha commentato Marcello Pisciotta dell'Associazione Borgo Antico, e il resto dell'anno che dovremmo intervenire per incentivare le attività. Anche quest'anno si terrà il 6 e il 7 marzo la decima edizione di Bari in Corsa Rosa, in media partner con Tele Bari e Radio Bari. Vediamo. La beneficenza corre con le donne, si consolida il matrimonio Solidarietà e Sport con l'Avor Running Tour Bari in Corsa Rosa. Quest'anno la decima edizione, due giornate, il 6 e il 7 marzo, in cui le donne festeggeranno le donne. Novità di quest'anno, tutti i fondi raccolti saranno devoluti ai reparti di senologia e di oncologia dell'ospedale San Paolo di Bari, come annunciato Cristina Quintini, responsabile pubblica relazioni Avon. Il bello di questa tappa, di quest'anno, è proprio che riusciamo a devolvere l'intero ricavato della vendita delle sacche e viene interamente devoluto all'ospedale San Paolo di Bari, reparto senologico e oncologico. Ci sarà anche il premio donna? Certo, ci sarà il premio donna città, anche questo è la prima volta che viene istituito e vuole andare a premiare le donne che si sono distinte nella città di Bari, nell'imprenditoriato, nel sociale, nel mondo sportivo e nella ricerca. Tra i percorsi previsti nella gara che si svolgerà, i media partner con Telebari e Radio Bari, a illustrare i dettagli della manifestazione, il presidente di Bari in Corsa, Franco Granata. Il 6 e il 7 di marzo, con il 6 riservato solo allo spettacolo, quindi c'è un concerto di Tullio De Piscopo gratuito per tutti. Il 7 è proprio la gara vera e propria, dislocata su tre percorsi, uno da un chilometro, uno da 5 e l'altro competitiva a livello nazionale e da 10 chilometri. L'anno scorso abbiamo centrato l'obiettivo di 4.500 donne partecipanti. Speriamo di abbattere questo muro e arrivare almeno a 5.000 partecipanti. Siamo alle previsioni del tempo per le prossime ore, cielo parzialmente nuvoloso, temperature comprese tra 7 e 16 gradi, venti moderati, mari poco mossi. Ricordo i nostri indirizzi internet www.telebari.it e radiobari.net. Vi ricordo ancora di non perdere l'appuntamento alle 15.30, come sempre, con la rubrica condotta da Michi De Ruvo, Dillo Aemiliano. Il telegiornale termina qui, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.